Per ora è tutto, noi allora ci fermiamo qui. Ci sono le notizie sul traffico e poi i nuovi giornamenti delle notizie. Restate con noi. Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete stradale e autostradale come si deduce dalle immagini che monitoriamo all'altezza nell'area romana di San Cesario. Come vedete non ci sono difficoltà. Analoga situazione la ritroviamo in area fiorentina. Qui siamo a Firenze e Scandici dove abbiamo una viabilità vivace in entrambe le carreggiate. Vi comunico che ci sono disagi invece sul versante nord-ovest con le code per 3 km motivate da cantini di lavoro sulla 10, la Genova 20 Miglia tra il Bivio della 6 e il km 44 e Sputorno in direzione delle confine di Stato. Code che ritroviamo sempre motivate da cantini di lavoro sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra-Fiorentina e la Strassigna in direzione Livorno. Invece le code che si registrano sulla 1 tra Fabbro e Orvieto sono motivate da un incidente. Al momento sono 2 km delle code e si sta lavorando per il ripristino del manto stradale danneggiato e al momento si viaggia su una sola corsia. I lavori si portarranno fino alle ore 17 di oggi pomeriggio. E infine vi comunico che la Bisse-Tiberina è chiusa per allargamento tra Quarto e Sarsina Sud. Queste sono state le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione. Da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità guidate con prudenza, fate buon viaggio e vi aspetto alle 17.25. Arrivederci. Grazie.